1.600.000 euro destinati alla realizzazione di tre distinti interventi per il territorio ionico e quanto afferma con soddisfazione Mino Borracino, assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia. Si tratta di risorse provenienti dalle royalties, riconosciute annualmente alla Regione, dalle società che hanno ottenuto l'autorizzazione alla prospezione, ricerca e coltivazione dei giacimenti di idrocarburi ubicati sul territorio e che la Regione utilizza per la realizzazione di progetti a servizio delle attività economiche e ad interventi destinati allo sviluppo del territorio. In particolare la delibera destina 600.000 euro all'Agenzia regionale Asset che sta svolgendo attività di supporto per la costruzione del piano strategico di sviluppo e di valorizzazione di tutto il territorio tarantino. Le risorse stanziate sono finalizzate alla realizzazione di due progetti. Da un lato saranno finanziati due diversi studi scientifici volti a valutare il primo lo spettro delle patologie del bambino e dell'adulto in soggetti direttamente esposti a fattori contaminanti e il secondo gli effetti protettivi sulla salute umana esercitati dall'olio di oliva naturalmente arricchito di polifenoli, vitamina E, omega 3 e omega 6. Un secondo importante finanziamento pari a 800.000 euro è stato riconosciuto ad Arti, l'Agenzia regionale per le tecnologie e l'innovazione che svilupperà degli interventi di supporto alla fase di avvio delle due zone economiche speciali, occupandosi di svolgere anche attività di monitoraggio del loro impatto sui sistemi produttivi regionali e per l'attrazione degli investimenti nazionali ed internazionali. Il terzo finanziamento previsto nella delibera di giunta riguarda il Comune di Maruggio che sarà destinatario di 200.000 euro per la realizzazione di un progetto finalizzato alla creazione di un centro di addestramento subacqueo direttamente collegato con lo scalo aeroportuale di Grottaglie che, come è noto, è stato già designato per iniziativa ministeriale e regionale quale primo spazio porto destinato ad accogliere voli suborbitali. L'intervento previsto per Maruggio quindi ha lo scopo di offrire un servizio di tipo turistico destagionalizzato ad alto contenuto tecnico-scientifico, fortemente innovativo. E conclude così Borracino, si tratta in definitiva di tre interventi importanti che confermano la grande attenzione con la quale il Governo regionale, del Presidente Michele Emiliano in particolare, guarda le prospettive di crescita e di sviluppo della città di Taranto e di tutta la provincia ionica, investendo importanti risorse in innovazione, ricerca e turismo di qualità che consentono a tutto questo territorio di confermare la sua centralità nel contesto delle politiche strategiche della Regione Puglia.